Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove, se inserirete i codici riportati in descrizione, riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questa nuova rubrica che andrà a trattare la storia di Keyforge. Partiremo dal crogiolo, incredibile pianeta dove le nostre avventure si consumano, e passeremo per gli arconti e andando così via via a trattare ogni singolo aspetto di questo gioco di mazzi unici. Quindi non perdo ulteriore tempo e vi lascio alla prima puntata di Keyforge Lore. Buona visione! Sono riuscita a vederlo bene, mentre la Quantum andava in pezzi durante la discesa. Un pianeta gigantesco, un guscio incompleto che lo circondava, e quella guglia impossibile in esso incastonata che si estendeva oltre a noi. Credo che già nello spazio fossimo dentro quella cosa. La formica larva mintarana non immagina di essere in un terraio, e ignora l'esistenza del mondo esterno. Certi giorni mi chiedo se anch'io sia una formica larva. Un mondo gigantesco situato al centro dell'universo. Il melting pot dove milioni e milioni di mondi si mescolano assieme, dove alieni, intelligenze artificiali e antiche società convivono in modi inconcepibili. Lo chiamano crogiolo. Nessuno sa quando fu costruito. La risposta migliore che si può ottenere è tanto, tanto tempo fa. Nessuno sa chi l'abbia costruito. L'unica risposta che si può ottenere è gli architetti. E nessuno conosce il suo scopo, se non quello più evidente. Un luogo dove radunare campioni di ogni pianeta, ogni specie, ogni cultura della galassia. Dalla superficie sembra simile a tanti altri pianeti. È dotato di gravità, a volte più forte, a volte meno forte. Di atmosfera, a volte abitabile, a volte no. È popolato da vegetali, animali, formazioni minerali, rovine di civiltà scomparse da tempo. Chi si aggira per il crogiolo non esplora soltanto un mondo alieno. Li esplora a tutti. Dalle città sospese dei Sanctum, alle foreste di cristallo del Bosco degli Ember. Dai macigni torreggianti della montagna del Gigante Dormiente, alle pozzi di argento vivo della palude di Aregrum. Dalle paludi rosse spazzate dal vento di Nova Hellas, ai canyon abissali dell'Eco del Profondo. Le meraviglie che il crogiolo offre non hanno limiti. E i popoli? Razze provenienti da milioni di mondi e cento milioni di culture, che vivono fianco a fianco o a tentacolo su tutta la superficie del crogiolo, formando bande di nomadi, tranquilli villaggi, frenetiche città, fortezze torreggianti o placidi templi, mercanti o briganti, re o scienziati. Quanta gente! Quando così tante specie e culture diverse vivono fianco a fianco, le vecchie nazioni e gli imperi dei mondi nati tendono a scomparire in fretta, nella maggior parte dei casi. Gli Elfi delle Ombre o le tribù dei Brobnar tentano di mantenere le loro comunità coese, ma singolarmente si aggirano per le vie delle grandi città del crogiolo, proprio come tutti gli altri. L'impero marziano sarà anche guidato da un gruppo di xenofobi conquistatori, ma i suoi sudditi si dileguano di soppiatto per assistere all'ultimo concerto dei Rolling Bugs, proprio come tutti gli altri. Molte delle innumerevoli case del crogiolo sono nate sul pianeta stesso, ma anche quelle che provengono da un loro mondo natio come le ombre ora contano numerosi alieni tra le loro fila. Con il tempo il crogiolo cambia tutti, o quantomeno cambia la visione del mondo dei suoi abitanti, poiché al di sopra di ogni altra cosa si erge la guglia, quella torre assurda che sorge dal popolo e sale verso lo spazio. E dalla guglia cosa si dirama? Uno strato incompleto del crogiolo? Un possente spazio porto riservato esclusivamente all'uso degli architetti? Chi può dirlo? Ma se fissi il cielo azzurro abbastanza a lungo, avrai l'impressione di scorgere i tralicci e le strutture di un mondo ancora in costruzione. Il crogiolo, per quanto assurdo, gigantesco e artificiale, continua ancora oggi a crescere ed evolversi. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi chiedo di condividerlo con amici e conoscenti che hanno la vostra stessa passione per questo gioco o a chi vuole saperne di più al riguardo. Iscrivetevi al canale, mettete un like o semplicemente lasciate un commento. Grazie per essere stati con me. Noi ci rivediamo nel prossimo video.